Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video durante il quale vi presenterò la top 3 dei migliori teli copriauto. Vi invito a dare un'occhiata alla descrizione dove troverete tutti i link di prodotti e le migliori offerte del momento e adesso passiamo al video. Quindi cominciamo con il telo auto sale nuovo. Iniziamo questa top con il grande modello di copertura per auto di sale nuovo. Avere questo tipo di prodotto è molto pratico soprattutto in inverno perché evita che l'auto venga danneggiata dal freddo e dall'umidità. Inoltre è una buona protezione per tutto l'ano anche contro i raggi solari ad esempio per non danneggiare la carrozzeria. Se sapete che lascerete la vostra auto senza usarla per un po' dovreste avere questo tipo di telo. Questo telo per auto è molto pratico in quanto è disponibile in diverse misure e protegge perfettamente da ogni tipo di condizione. Meteo. Poi troviamo il telo auto Keime. Ancora una volta si tratta di un telo auto molto pratico. Questo modello è molto interessante perché offre davvero molte misure diverse di copertura e anche a seconda del tipo di auto che avete in modo che la copertura possa coprire perfettamente la vostra macchina. L'aspetto positivo è che il telo protegge da ogni tipo di intemperie e presenta anche una funzione di sicurezza contro il vento per evitare che la copertura venga spazzata via. Dal punto di vista pratico è presente uno sgancio rapido per il conducente se si ha bisogno di cercare qualcosa nell'auto ma non si vuole rimuovere l'intera copertura. E per finire ecco il telo auto Navaris per concludere con un altro modello top di gamma con questo grande telo auto disponibile in tre diverse misure. Offre una protezione perfetta dalle intemperie e soprattutto dal gelo in inverno. E' molto facile da mettere e togliere quindi anche se dovete usare l'auto ogni giorno non avrete problemi a mettere e togliere la copertura ogni giorno. Ecco grazie per aver seguito questo video spero che ti sia stato utile non esitare a mettere un like un commento e ad iscriverti al canale è sempre un piacere. Ti ricordo anche che ho messo i link di prodotti e le migliori offerte nella descrizione puoi vedere tutto ciò e su questa nota ti dico a presto per un nuovo video.